Oh ragazzi! E ora lo scrivono anche su Lanza come se nulla fosse. Finale FA Cup Donne. Una giocatrice collassata in campo, ok? È proprio tombé per terra, tombé. La norvegese Manum sviene, Arsene è in condizioni stabili adesso. Ma una 24enne così, in forza ai Gunners, ha avuto un collasso fra lo sconcerto e la paura delle giocatrici. Immediatamente soccorsa. Eh, quante ne succedono ragazzi!